Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova puntata della nostra trasmissione 7 in punto. Questa mattina ci diamo la sveglia parlando del cuore. Un cuore sempre nuovo, l'abbiamo intitolata perché ormai le frontiere della cardiochirurgia sono talmente avanzate che si parla addirittura di cuori artificiali. L'ospite di oggi è assolutamente un'autorità in materia perché abbiamo con noi il professor Gino Gerosa, buongiorno e benvenuto, bentornato. Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi spazzatori. Direttore della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Padova, spesso protagonista di tante di queste innovazioni che devo dire hanno un po' rassicurato tutti sul fatto che qualsiasi cosa accada, facendo i dovuti scongiuri, quando si tratta di cuore, una soluzione a questo punto si trova? Una soluzione si può trovare, certo non c'è una soluzione per tutti i problemi, adesso non vorrei deludere il suo ascoltatore, però è opportuno che la gente resta con i piedi per terra. È giusto. C'è una soluzione per molti problemi cardiaci, questo sicuramente. Diciamo che tra le branche della medicina questa è quella che sicuramente ha fatto più passi avanti negli ultimi decenni, dal trapianto di cuore in poi si è assistito veramente a un'evoluzione che ha portato delle innovazioni fortissime. E uno dice vabbè è finita qui, no non è finita qui perché i cardiochirurghi continuano e studiano e continuano a sperimentare strade nuove per salvare sempre più vite e soprattutto per rendere sempre meno pesanti gli interventi chirurgici. E questo diciamo è l'ambito principale in cui vi muovete. Sì ci sono diciamo due direttrici sulle quali ci stiamo muovendo, la prima è quella di ridurre l'invasività degli interventi cardiochirurgici non solo in termini di entità dell'incisione chirurgica, quindi evitare ad esempio la sternotomia che è l'approccio classico tradizionale per accedere al cuore, ma soprattutto per cercare di evitare l'utilizzo della circolazione extracorporea e l'arresto cardioplegio del cuore che sono richiesti ogni volta che dobbiamo lavorare all'interno del cuore. Quindi nuove tecnologie, tecnologie transcatetere che permettono appunto di lavorare all'interno del cuore senza fermarlo e senza dover utilizzare la circolazione extracorporea come supporto. Ecco io traduco anche per chi non è magari tecnico della faccenda, praticamente si viene operato con il cuore che batte. Esatto. E questo succede per le valvole? Questo succede, può succedere ad esempio, è una tecnica che viene utilizzata qualche anno fa, si era più entusiasta negli interventi a cuore battente per la chirurgia coronarica. Però nella chirurgia coronarica ci si è resi conto che la bontà dell'anastomosi determina poi il successo dell'intervento a distanza di anni. E quindi oggi si preferisce eseguire quelle anastomosi a cuore fermo, però viene utilizzata per i pazienti ad esempio ad alto rischio, in cui l'utilizzo della circolazione extracorporea può essere controindicato. Ma come giustamente diceva lei, nella chirurgia riparativa ad esempio della valvola mitrale, abbiamo sviluppato, e qui sono orgoglioso di dirlo perché il termine nasce proprio a Padova, la chirurgia microinvasiva, che a differenza della chirurgia mini-invasiva per interventi riparativi sulla valvola mitrale, non prevede solamente una piccola incisione, in quanto facciamo una piccola incisione sulle mitorace di sinistra per entrare dalla punta del cuore con un catetere con cui aggiustiamo la valvola mitrale, senza utilizzare appunto la circolazione extracorporea, ma soprattutto senza fermare il cuore. E devo dire che Padova in questo caso è vertici mondiali perché abbiamo la più grossa esperienza mondiale negli interventi di chirurgia microinvasiva per la riparazione della valvola mitrale. Tipo quanti interventi di questo tipo fate in un anno? Abbiamo fatto circa, tenga conto che al mondo sono stati fatti circa 400 interventi, di questi più di 100 sono stati eseguiti a Padova. Quindi un punto di riferimento internazionale, è una tecnica che è andata via via migliorando, che avete perfezionato o che... Dice una cosa giustissima perché la tecnologia era già disponibile qualche anno fa, noi abbiamo modificato la tecnica, cioè la modalità di impiego di questa tecnologia e rientro proprio ieri da un grosso convegno internazionale dove mi hanno chiamato a presentare i nostri dati di Padova e devo dire che è stato con grosso orgoglio vedere come quando abbiamo cominciato erano un pochino scettici i colleghi e adesso cominciano un trial negli Stati Uniti per l'FDA approval, perché venga approvato dall'ente certificatore americano, l'utilizzo di questa tecnica anche negli Stati Uniti. Ma cosa serve per arrivare a questo traguardo e a utilizzarla, questa tecnica? Serve un team particolare, un insieme di competenze, il chirurgo? Cos'è che fa la differenza? Bravissima, ha centrato perfettamente il problema. È un lavoro di team, è quello che gli anglosassoni chiamano un team effort nel senso che il chirurgo chiaramente ci mette del suo, però deve essere attornato da un team efficiente, in questo caso è una chirurgia che si basa tantissimo visto che non possiamo vedere con i nostri occhi quello che accade all'interno del cuore ma guardiamo attraverso l'ecocardiografia tridimensionale transesofagea e quindi ci vuole un eccellente specialista che sia in grado di mostrarti al meglio perché altrimenti saresti cieco al momento dell'esecuzione della procedura. Noi abbiamo un cardio anestesista che è il dottor Pittarello che è uno dei maestri mondiali, devo dire, per quanto riguarda l'ecocardiografia tridimensionale transesofagea moltissimi centri ce lo invidiano e questo ci ha permesso ad esempio di avere questi risultati molto molto buoni. Io apprezzo molto quello che lei dice perché è vero che la tecnologia è importante però poi queste macchine per quanto siano sofisticate, perfette, vengono utilizzate dalle persone e lì ci vuole una competenza grandissima appunto io ho sentito delle mie amiche adesso faccio un paragone con le cose che sono per me consuetudinarie che la utilizzano, adesso si comincia a utilizzare, non so, per fare degli esami al seno queste cose qui, questa tecnica dell'ecografia in 3D però i medici sono un po' scettici perché poi bisogna anche leggere il contenuto di questa faccenda perché non hai niente farlo e lì ci vuole però la tecnologia chiaramente fine a se stesso non ti dà una risposta perché è pur sempre una macchina e quindi è l'utilizzo della tecnologia tant'è che tornando all'esempio che facevo prima questa tecnologia era già disponibile alcuni anni fa eppure non era stata abbracciata in modo così completo, così aperto dal mondo cardiochirurgico proprio perché non c'era stato quel plus aggiunto dagli uomini, dai cardiochirurgi, dagli anestesisti che a Padova siamo stati in grado di aggiungere e che ha permesso quindi di ottenere i massimi risultati quindi di massimizzare il risultato finale nell'utilizzo di questa tecnologia Nella medicina la condivisione è importante, i risultati si ottengono un po' qui, un po' lì nel mondo e poi bisogna cominciare a condividerli, a sperimentarli voi fate la parte di quelli che, spesso fate la parte di quelli che sperimentano per primi devo dire la verità Sperimentare per primi è una parola che lascia sempre un po' sospettosi, quindi non mi piace utilizzarla diciamo che siamo dei pesci piloti in cui identifichiamo delle tecnologie, degli interventi, delle tecniche chirurgiche in questo riconosciamo al team di Padova una bravura nel riuscire a cogliere quelle che sono le tecniche che potranno poi dare delle risposte importanti e abbracciarle fin dall'inizio come fu ad esempio in Italia l'utilizzo del cuore artificiale totale Cuore artificiale totale che voi avete anche in questo caso modificato perché Padova non tanti mesi fa è stata protagonista di un intervento il primo intervento con questo mini cuore artificiale in un ragazzo avete stato ridotto per essere posizionato in una cassa toracica più piccola Allora non posso riconoscere a noi questo merito perché in realtà non abbiamo modificato il cuore artificiale quel ragazzo, quel paziente è stato molto fortunato perché qualche mese prima era già stato sviluppato un cuore artificiale più piccolo il cuore artificiale fino all'ora disponibile aveva le dimensioni di circa 70 cc e ci voleva una certa dimensione della gabbia toracica per poterlo accomodare all'interno della stessa qualche mese prima era uscito un modello da 50 cc che ha permesso di poter sottoporre all'impianto del cuore artificiale totale un paziente già trapiantato di cuore per un secondo trapianto con un organo meccanico Io mi ricordo sono venuta a quella conferenza stampa e poi ho impressionato tutte le mie amiche perché questo intervento che ha salvato la vita a questo giovane ragazzo, 26 anni, una cosa del genere alla fine però questo ragazzo non ha il battito cardiaco perché il cuore artificiale non prevede un battito Beh un rumore anche un po' più forte del battito cardiaco c'è perché è l'unico cuore artificiale attualmente disponibile che è un cuore pneumatico quindi c'è un piccolo compressore che ha una discreta rumorosità non ha sicuramente il tracciato elettrocardiografico questo no perché naturalmente sviluppa pressione ma non sviluppa dei vettori che possono essere registrati su carta come un qualsiasi tracciato elettrocardiografico Ecco lei ha detto questa cosa che è una cosa importante questo cuore artificiale prevede che ci sia una macchina fuori dal corpo che lo fa, che lo alimenta sostanzialmente il grande sogno proprio di Padova sostanzialmente è quello di realizzare il primo cuore completamente artificiale però ci vuole Beh ci vogliono innanzitutto i finanziamenti abbiamo sviluppato già l'attuatore che questo termine non dirà nulla agli spettatori ma l'attuatore diciamo è il cuore del cuore artificiale cioè il meccanismo che lo fa funzionare e adesso dobbiamo sviluppare tutto quello che ci sta attorno quindi il motore elettrico miniaturizzato il motore elettrico lineare miniaturizzato le unità di controllo e quant'altro e qui servono i finanziamenti anzi ne approfitto per dire che adesso si dovrà decidere a chi devolvere il proprio 5x1000 forse se devolvete il vostro 5x1000 all'Università di Padova potrebbe essere un buon investimento per voi nel senso che la ricerca che sviluppiamo all'Università di Padova ha delle ricadute poi importanti sull'assistenza dei pazienti insomma ogni anno si può decidere a chi donare per cui si può anche cambiare un anno ad uno un anno ad altri penso che questo sia un traguardo all'altezza alla portata diciamo come diceva il professor Gerosa già si sta studiando manca solo la possibilità di andare avanti con il progetto e credo che sarebbe determinante per moltissime persone perché sappiamo che tante volte un trappianto solo, l'abbiamo detto anche prima non basta nella vita di una persona che magari ha degli scompensi i sistemi di assistenza meccanica sono stati sviluppati perché fortunatamente da una parte devo dire si è modificato il profilo clinico del donatore d'organo pensate che ai tempi dei primi trappianti a metà degli anni 80 l'età media del donatore era intorno ai 18 anni perché il classico donatore che andava incontro a morte cerebrale era un giovane ragazzo di 18-20 anni che aveva uno stupido incidente motociclistico batteva il capo sul selciato e andava incontro a morte cerebrale fortunatamente oggi questi donatori sono scomparsi la legge sul casco i sistemi di sicurezza all'interno delle autovetture le migliori terapie sviluppate nelle terapie intensive neurochirurgiche o neurologiche hanno fatto sì che fortunatamente i donatori per morte cerebrale da trauma sono sostanzialmente in fortissima riduzione oggi il donatore è un 50-60 anni che incontro a morte cerebrale per un'emorragia o un'ischemia cerebrale è chiaro che se hai un'emorragia o un'ischemia cerebrale avrai dei fattori di rischio il diabete piuttosto che l'ipertensione e quindi se questo non impatta negativamente in maniera negativa a organi come il polmone piuttosto che il fegato piuttosto che i reni impatta negativamente il cuore e quindi abbiamo in Italia credo che siamo al secondo posto in Europa per donatore per milioni di abitanti però il profilo dei donatori come dicevo prima si è modificato quindi a fronte di un numero di donatori ancora elevato in Italia il numero di organi disponibili e utilizzabili per trapianto di cuore sono in forte riduzione e allora la tecnologia ha cercato di sviluppare dei sostituti alternativi al trapianto cardiaco che sono i VAD quando basta sostituire la funzione di un solo ventricolo il ventricolo sinistro o il cuore artificiale totale quando entrambi i ventricoli destro e sinistro sono disfunzionanti devo dire che contemporaneamente appunto anche la cardiochirurgia ha fatto dei passi veramente da gigante in avanti per cui anche dove prima si interveniva con un trapianto adesso magari si riesce ad intervenire con una sostituzione o con una riparazione certo perché se da una parte dicevo fortunatamente i donatori in morte cerebrali giovani sono scomparsi e di questo siamo tutti felici peraltro dobbiamo dare delle risposte assistenziali ai pazienti che purtroppo muoiono per scompenso cardiaco refrattario terapia medica ottimale o un intervento cardiochirurgico tradizionale e quindi i sistemi di assistenza meccanica potrebbero essere una risposta però tornando all'esempio che faceva prima del cuore artificiale totale attualmente disponibile un conto è garantire la sopravvivenza ma dobbiamo garantire anche una qualità di vita ottimale per i nostri pazienti e l'unico cuore artificiale totale attualmente disponibile è un cuore abbastanza rumoroso con questa console esterna al corpo bisogna portarsi appresso perché è un compressore che movimenta l'area compressa all'interno dei ventricoli artificiali quindi si sta sviluppando dei cuore artificiali che siano più per dire all'anglosassano patient friendly che siano più amici dei pazienti e quindi con una miglior biocompatibilità sappiamo che nel trapianto di cuore ad esempio diamo i farmaci immunosoppressori per renderlo come dire più accettabile da parte dell'organismo in cui viene trapiantato per i cuore artificiali meccanici dobbiamo invece somministrare farmaci antiaggreganti e anticoagulanti in quanto la biocompatibilità non è ottimale e quindi bisogna evitare la formazione di trombi quindi da un lato si lavora sulla meccanica diciamo così e dall'altro proprio sui materiali sulla costruzione sulla biocompatibilità dei materiali quindi tornando all'esempio che faceva di Padova anche noi come Padova stiamo lavorando su un cuore artificiale totale anche perché devo dire che a Padova si lavora tantissimo anche sulle biotecnologie cioè sui materiali sulla medicina regenerativa ma anche proprio sulla costituzione delle valvole dei tessuti artificiali beh abbiamo cercato di trasferire lei citava adesso le valvole noi siamo partiti perché volevamo sviluppare delle valvole in grado di rigenerarsi nel tempo ecco perché nel laboratorio di medicina regenerativa abbiamo sviluppato una tecnologia per decellularizzare le valvole tecnologia che qualche mese fa abbiamo regalato alla banca degli omorafi di Treviso tant'è che il presidente Zaia ci regalò una targa come ringraziamento e devo dire che la banca di Treviso è l'unica istituzione europea oltre a Danover ad avere a disposizione questa tecnologia la vuole spiegare che magari noi ci abbiamo messo 20 abbiamo cominciato nel 92 abbiamo ottenuto dall'Istituto Superiore in Sanità l'autorizzazione all'impiego clinico l'anno scorso quindi dal 92 al 2015 però bisogna essere attestardi per portare avanti il progetto di riservi tempo anche perché appunto le cose che funzionano hanno comunque bisogno fortunatamente in Italia di un percorso poi di certificazione pubblicazioni è più facile arrivare alla soluzione che puoi portarle effettivamente alla portata di tutti però da questo dà sicurezza la tecnica consiste nel rimuovere dalle valvole che sono chiamate omograph sono le valvole prelevate da cadavere quindi valvole umane viene rimossa tutta la componente cellulare resta solamente un'impalcatura di elastina e collagene che viene poi successivamente ripopolata una volta impiantata all'interno del paziente viene ripopolata dagli elementi cellulari circolanti e questo permette quindi di avere delle valvole con un patrimonio cellulare otologo cioè di pertinenza del paziente quindi senza determinare una risposta immunitaria quindi non sono le staminali sono cellule in circolazione che vanno a rimettere sono elementi precursori che hanno staminalità diciamo che permettono poi di invadere questo lo colonizzano esatto lo colonizzano e naturalmente però bisogna avere una tecnologia che permetta di rimuovere le cellule senza che questa tecnologia ma questo processo avviene in laboratorio vengono in laboratorio poi le valvole vengono criopreservate cioè congelate per poterle conservare fino al momento in cui si rende necessario l'impianto in un paziente mentre la sperimentazione che avete fatto con le staminali per la riparazione del cuore beh quello mi riporta indietro di un sacco di anni perché quello l'abbiamo fatto ancora all'inizio degli anni 2000 ma poi adesso poi l'avete lasciato come? no c'era un grandissimo entusiasmo in quella epoca alla fine degli anni 90 perché c'erano tutta una serie di lavori del gruppo del professor Anversa che è un italiano che era a New York che nei topini aveva mostrato come in presenza di un infarto miocardico il trapianto di cellule staminali permetteva un recupero molto più veloce e più efficace dopo un infarto miocardico quindi ci fu un grande entusiasmo nel mondo ci sono diversi gruppi che cominciarono ad utilizzarlo anche nell'uomo noi a Padova fumo sicuramente i primi in Italia ma tra i primi al mondo purtroppo i risultati poi di efficacia non sono stati quelli attesi e questo ci ha dimostrato che molti degli esperimenti che vengono condotti negli animali del laboratorio molto spesso non possono essere traslati all'uomo come risultato finale ma io faccio anche un altro esempio ricordo che quando Christian Barnard eseguì il primo trapianto alla fine degli anni 60 anche lì ci fu un grande entusiasmo tantissimi centri cominciarono a eseguire trapianti per il mondo e dopodiché i risultati iniziali del trapianto di cuore erano molto modesti con una sopravvivenza a due anni anche questa molto modesta per cui alla fine all'inizio alla fine degli anni 70 solamente due centri al mondo continuarono a fare i trapianti Cape Town dove era stato eseguito il primo trapianto e Stanford in California dove c'era il professor Norman Shammoy che è considerato il padre della terapiatologia dei cardiochirurghi continuarono a fare i trapianti finché all'inizio degli anni 80 fu scoperta la ciclosporina che è un potente farmaco immunosoppressore che garantì da quel momento in poi la sopravvivenza dei pazienti di cardiochirurghi allora voglio dire e pensare e sperare che anche per quanto riguarda le staminali manca quella tesserina del puzzle che permetterà forse negli anni a venire anche l'utilizzo delle staminali per rigenerare e per riparare il cuore perché anche in questo caso c'è una specie di rigetto qual è il problema? no non è quello il fatto che naturalmente quando c'è un infarto muoiono milioni e milioni centinaia di milioni di cardiomiociti di cellule cardiache perché si interrompe il flusso ematico si chiude la coronaria quindi non arriva ossigeno non arrivano elementi nutritivi e chiaramente quando andiamo a trapiantare delle cellule in quella sede bisogna ricostruire un miglio evascolare che permetta poi di mantenere in vita quelle cellule e poi adesso non vorrei entrare in spiegazioni troppo difficili ma non è tanto forse la transdifferenziazione di queste cellule steminali cardiomiociti quanto la liberazione di sostanze particolari di citochine vengono chiamate tecnicamente che aiutano i cardiomiociti residenti quindi diciamo che è molto complesso il meccanismo e forse alla fine degli anni 90 eravamo stati un po' troppo semplicistici non lo sperare che bastasse ma si continua a studiare questa cosa? assolutamente sì assolutamente sì mi ha fatto promettere professore di non chiedergli quelle che sono le nuove frontiere perché evidentemente c'è qualcosa in ballo non lo so io cosa sia qualcosa è però adesso noi ci fermiamo tra pochissimo abbiamo una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo con il professore che ci deve comunque parlare di altre tecniche che secondo me sono assolutamente interessanti non ultima questa questione della microinvasività perché io lo schiedere anche il professore dopo ce lo dirà dopo se non rimpiange anche quando poteva controllare di persona quei suoi occhi quello che accadeva e quali sono le differenze i pregi e i difetti di questo tra pochissimo però a tra poco eccoci qui siamo in compagnia del professor Gino Gerosa cardiochirurgo notissimo che ha aperto tantissime strade nuove in particolare per quanto riguarda le tecniche che sempre di più garantiscono una qualità di vita al paziente perché magari l'intervento diventa meno pesante il decorso della malattia diventa meno pesante da sopportare e parlavamo proprio di una delle tecniche più nuove anche se credo che ormai abbia un po' di anni è quasi sotto anniversario per quanto riguarda le tecniche transcatetere diciamo la più importante la più utilizzata sia a Pado che a livello internazionale è l'impianto della valvola ortica mediante appunto una tecnica transcatetere e a Pado fu i primi se non ricordo male nel 2007 con Catania ad eseguire un impianto di una valvola ortica per via transcatetere quindi dal 2007 ad oggi quasi 10 anni che è una procedura ben consolidata con decine e decine di migliaia di impianti in tutto il mondo questo permette di sostituire al momento inizialmente erano i pazienti al di sopra degli 80 anni ad altissimo rischio inoperabili oggi ci sono dei trial che dimostrano che questa tecnologia può essere utilizzata anche in pazienti relativamente meno anziani diciamo intorno ai 65 70 anni anche senza altissimi fattori di rischio è una tecnologia naturalmente che costa di più rispetto all'impianto di una valvola cardiochirurgica tradizionale e quindi ci sono anche dei costi che il sistema sanitario deve sostenere e quindi bisogna identificare in maniera molto corretta i pazienti che possono giovarsene al meglio questo per quanto riguarda la valvola ortica per quanto riguarda la valvola mitrale che è quella a cui accennavamo precedentemente abbiamo cominciato nel 2013 quindi sono passati poco più di due anni abbiamo fatto questo intervento in circa un centinaio di pazienti al mondo sono stati trattati circa 400 pazienti le chiedevo prima della pausa questo riguarda molti chirurghi che ormai devono utilizzare i robot perché appunto danno dei risultati soprattutto per quanto riguarda il decorso della patologia e per quanto riguarda la qualità di vita del paziente molto importanti però tolgono un po' quello che è il controllo che si aveva prima sulla situazione quando lei operava vedendo quello che c'era all'interno del cuore questo è vero tant'è che una volta se lei ricorda si diceva grande taglio grande chirurgo oggi questo non è vero perché grande taglio sicuramente non grande chirurgo cattivo chirurgo oggi si dice piccolo taglio grande chirurgo in cardiochirurgia il taglio però a differenza della chirurgia generale non è l'unico problema perché negli interventi cardiochirurgici in cui bisogna operare all'interno delle cavità cardiache è chiaro che se si utilizza la tecnica tradizionale bisogna utilizzare la circolazione extracorporea cioè il sangue deve essere deviato dal nostro organismo all'interno dalla macchina a cuore e polmone dove viene ossigenato e poi reimmesso nell'organismo questo per permettere naturalmente la sopravvivenza dell'organismo nel momento esatto in cui si sta operando all'interno del cuore perché il cuore viene fermato perché bisogna aprire le cavità cardiache e una volta eravamo abituati a devisu guardare le strutture che dovevamo riparare o sostituire perché le cavità cardiache erano aperte oggi nella cardiochirurgia microinvasiva quella a cui accennavo precedentemente l'ottimale sarebbe poter eseguire un intervento senza dover utilizzare la circolazione estracorporea perché non apri le cavità cardiache quindi non devi fermare il cuore questo naturalmente è permesso dall'utilizzo dei cateteri e quindi lavori all'interno del cuore senza poter più guardare le strutture che vai a sostituire o riparare direttamente e quindi utilizzi delle tecniche di imaging che potrebbe essere la fluoroscopia in un laboratorio di emodinamica piuttosto che l'ecocardiografia transesofagia tridimensionale e quindi il chirurgo come dire deve continuamente evolversi e fidarsi anche come diceva prima di altri professionisti che aiutano in questa visione ma come dire fidarsi di altri professionisti ma anche sviluppare come dire una capacità critica nell'analizzare e nel prendere visione di queste nuove tecniche di imaging cardiaco non sta cambiando veramente tutto io ormai per voi penso sia anche una cosa abbastanza superata la stampa in 3D sostanzialmente di pezzetti che vanno poi a sostituire pezzi del corpo ultimamente qui a Padova abbiamo visto la mandibola esatto ma penso che anche per qualche nel cuore non vengono ancora stampati anche se a Padova ci siamo dotati di una stampante tradizionale che abbiamo già utilizzato perché dovevamo eseguire un intervento proprio per impiantare una di quelle valvole decellularizzate il paziente il paziente era già stato operato alcune volte in precedenza negli anni precedenti e quindi dovevamo identificare una tecnica perché quando il paziente è già stato operato precedentemente naturalmente il cuore è subito al di sotto dello sterno del piatto sternale questo osso piatto che c'è al davanti del cuore che lo protegge e quindi con le aderenze degli interventi precedenti il cuore è attaccato al di sotto quindi quando si riapre lo sterno bisogna stare molto attenti a non determinare dei danni a non danneggiare le strutture cardiache al di sotto dello sterno e il paziente presentava la TAC un'aderenza molto molto importante tra la struttura cardiaca e lo sterno e l'osso per cui era fortemente a rischio di determinare una lesione che poteva essere irreparabile della parete anteriore del cuore per cui utilizzando una stampante 3D siamo partiti da un'immagine TAC l'immagine TAC l'abbiamo riusciata all'interno della stampante 3D abbiamo stampato quindi con un rapid prototyping tridimensionale il cuore del paziente e la sua gabbia toracica questo ci ha permesso di identificare una via di ingresso che in questo caso era il terzo spazio intercostale di sinistra quindi siamo riusciti ad entrare e a cuore battente in questo caso però utilizzando l'ECMO che è una specie di circolazione estracorporea ma senza fermare il cuore siamo riusciti a cambiare questa valvola senza aprire lo sterno utilizzando proprio una stampante 3D che ci permettesse di mimare l'intervento che avremmo fatto successivamente anche questo penso sia stato per voi un grande aiuto esatto un passaggio successivo è quello di utilizzare le cosiddette stampanti 3D biologiche che vuol dire che tu puoi associare ai costrutti delle cellule quindi quando tu stampi il tuo costrutto puoi anche inserire all'interno di quel costrutto di quello scaffold di quello scheletro anche delle cellule vitali e quindi crearti dei sostituti dotati di patrimonio cellulare a cui siamo già come dire nel futuribile io rimango sempre ad ascoltare così con la bocca quasi aperta perché tengo chiusa solo per cortesia verso il pubblico ma effettivamente si entra in un immaginario che solo qualche anno fa sembrava assolutamente impensabile sta cambiando tutto cambiano ieri c'è stato il direttore dell'azienda ospedaliera di Treviso che sta sperimentando anche questo fatto della USL provinciale e quello che lei oggi ci ha raccontato ci dà anche l'idea di un'altra faccia di questa rivoluzione che sta accadendo nel mondo della sanità di cosa sono questi hub di cosa sono questi luoghi in cui si concentra tutta questa attività di innovazione e che devono un po' aprire la strada per poi trasferire tutte le competenze anche a livello territoriale e comunque fare da punto di concentramento ovviamente per tutti gli interventi più complessi perché non è che in ogni struttura si può avere tutto questo perché sarebbe un costo non solo un costo ma sarebbe anche sbagliato perché per avere una percentuale di successo ci vuole un determinato numero di casi anche non le dico brave se no mi dice che le faccio trovi complimenti però quello che tocco è un punto fondamentale per i centri hub noi siamo centro hub per lo scompenso cardiaco tra te che siamo il primo centro in Italia l'anno scorso per numero di trapianti di impianti di assistenza meccanica come risposta ultima ai pazienti che stanno morendo per scompenso cardiaco siamo un centro hub anche per Regione Veneto per quanto riguarda l'ECMO che è una specie di supporto circolatorio esterno per i pazienti che hanno un infarto miocardico gravissimo che morirebbero se non venissero assistiti recentemente abbiamo pubblicato la nostra esperienza che ormai è più di 150 pazienti trattati con una sopravvivenza che è intorno al 60% pazienti in cui al momento nel quale tu impianti l'ECMO sono pazienti che sono un passo dalla morte quindi non solo garantisci la sopravvivenza ma un recupero anche della funzione cardiaca quindi sono pazienti la gran parte di questi dimessi con il loro cuore perché ha recuperato dopo l'infarto miocardico e tu hai garantito la sopravvivenza allora tornando a quello che stava dicendo sui centri hub allora i centri hub hanno una duplice funzione la prima è quella che naturalmente non puoi disseminare sul territorio queste nuove tecnologie per due ordini di fattori uno non risparmio di spesa perché concentri all'interno di una singola istituzione e due perché naturalmente bisogno di volumi di attività tale per cui la raccolta dei dati lo sviluppo di un'esperienza la capacità di acquisire un'esperienza per il team si ha solamente se il volume di attività è adeguato se tu parcellizzi in diversi ospedali la stessa esperienza ci metti molto più anni ci sono talmente tante procedure di sicurezza per ogni tipo di apparecchiatura che possono andare soltanto in strutture che hanno determinati numeri ogni tanto c'è qualche polemica per quanto riguarda l'ostetricia e la ginecologia poi però quando vedi che in ospedali piccoli succedono magari casi molto gravi allora lì ti rendi conto che è comodo avere l'ospedale portata di mano però magari certe volte non è questo è un limite e forse siamo tutti un po' colpevoli quando dico un po' colpevoli tutti quanti intendo la politica i professionisti i giornalisti perché bisognerebbe educare come dire il pubblico cittadino l'utente cittadino che non puoi pretendere di avere ogni ospedale con la singola specialità dietro l'angolo perché questo è impossibile invece di sviluppare dei centri hub regionali garantendo naturalmente il trasferimento del paziente in tempi rapidi e adeguati in modo tale che si possano dare delle risposte ultra specialistiche perché ripeto domani anzi neanche domani ieri la competizione parlo di cardiochirurgia perché è il mio campo la competizione non è tra Padova e Verona tra Verona e Treviso tra Padova e Mestre o Padova e Vicenza la competizione non è neanche forse tra i centri italiani ma la competizione con i centri di Londra di Berlino di Parigi una competizione internazionale assolutamente e insomma speriamo che noi da questo punto di vista speriamo di andare avanti bene su questa direzione la cardiochirurgia italiana si colloca sicuramente parlo della cardiochirurgia del centro nord adesso non me ne vogliono altri però per la cardiochirurgia del centro nord sicuramente i risultati sono dimostrati sa che Agenas è uscita recentemente con le classifiche non parlerai di classifiche perché questo lo so che dal punto di vista giornalistico piace molto questa classifica perché anche un 0.1 percentuale ti permette che nella realtà assistenziale non vuol dire le valutazioni degli outcome perché naturalmente è importante che ci sia un controllo sugli outcome da parte degli enti preposti sia che essi siano le regioni piuttosto che il ministero della salute perché il controllo degli outcome è fondamentale e sicuramente l'Italia parlo di cardiochirurgia si colloca ai vertici a livello europeo e sicuramente non ha nulla da invidiare alla sanità nordamericana e comunque siccome siamo in chiusura di trasmissione in ogni caso trattatelo bene il vostro cuore che c'è sempre il professor Gerosa però insomma conviene preservarlo la prevenzione sicuramente la prevenzione gioca un ruolo importante grazie professore di essere stato con noi questa mattina e la trasmissione continua tra due minuti a tra poco grazie a tutti